Sono stati bambini ad accogliere Vandana Shiva, attivista e ambientalista indiana. È stata ospita al Monastero di Montebello, in occasione della settimana in cui Isola del Piano è la capitale al quadrato del progetto 50x50, nell'anno di Pesaro, capitale italiana della cultura. La settimana, iniziata il 3 giugno, è dedicata alla donna rurale. Durante l'incontro le donne sono state definite le guardiane del futuro ed è per questo che sono stati fatti esempi di progetti virtuosi che valorizzano, sia in India sia in Italia, il lavoro della donna in agricoltura. Tra i temi ascoltati con interesse da più di 200 persone sono emersi la transizione ecologica, la biodiversità e il futuro del pianeta. È importante, sottolinea Vandana Shiva, combattere l'uso dei pesticidi e l'industrializzazione dell'agricoltura. Stiamo vivendo un momento di degenerazione, abbiamo tutta una serie di crisi interconnesse tra loro, abbiamo la crisi del clima, a cui l'agricoltura industriale contribuisce fino a quasi il 50%, abbiamo la crisi della biodiversità e la crisi dell'acqua, tutte queste crisi che derivano dal modo in cui si fa agricoltura. E la risposta per affrontare tutte queste crisi, tra cui quella della salute, è unica, l'agricoltura rigenerativa biologica, per cui noi dobbiamo costruire un'alleanza con quelli che sono gli esseri che vivono nel nostro suolo, nel nostro ambiente, come gli impollinatori, come i vermi nel terreno o i microorganismi. Dobbiamo ricostruire e rigenerare la salute del suolo.